È in programma per il giorno 19 dicembre 2018 presso il Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli il concerto di Natale, quale saggio dell'orchestra degli studenti della scuola Gino Rossivairo di Agropoli, l'iniziativa che si realizzerà con il patrocino del Comune di Agropoli, all'obiettivo di far rivivere a grandi e piccini la magia del Natale, creando un'atmosfera unica e ripetibile, riprendendo attraverso la musica tradizioni natalizie in un'esperienza condivisa per ritrovare lo spirito del Natale. Proprio in tale ottica, da alcuni anni si lavora per costruire un calendario di eventi e di iniziative spendibile per tutti, che valorizzi la cultura, la natura, il tempo libero, lo sport, la storia e le tradizioni della cittadina agropolese. Così, anche per il periodo natalizio è ormai tradizione realizzare una rassegna di eventi e spettacoli organizzati o patrocinati dal Comune di Agropoli, che contribuiscono a renderla come città viva tutto l'anno. Ciò contribuisce non di poco allo sviluppo del settore turistico e, conseguentemente, del territorio, visto che il turismo rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale, che con il suo indotto garantisce lo sviluppo del commercio, la distorazione, la ricettività e i servizi.